e ed eccoci giunti ad una nuova edizione del Tg del diritto oggi siamo in compagnia di Eugenio Forgillo presidente vicario della corte di appello di Napoli nonché presidente della nona sezione civile della corte buongiorno ben trovato grazie per essere qui con noi buongiorno dunque direi di iniziare subito da alcuni eventi che hanno impressionato da vicino la nostra popolazione ovvero lavoraggine dell'ospedale del mare ma anche il i danni al molo borbonico quali problemi adesso potranno insorgere ai medesimi sì sono eventi hanno colpito un po' tutti in realtà nell'ultimo anno molti eventi naturalistici hanno ci hanno interessato ci hanno colpito nel profondo del cuore perché forse non siamo abituati e i cambiamenti meteorologici stanno sicuramente condizionando molto la nostra esistenza oltre la pandemia naturalmente sicuramente potranno nascere diversi procedimenti da questi eventi procedimenti giudiziari dico sicuramente in sede civile per i danni riportati fortunatamente solo alle cose e alle autovetture alle strutture potranno nascere dei procedimenti a carico di chi ha in custodia questi beni e probabilmente forse non ha fatto del tutto il suo dovere perché secondo la legge civile grava su chi ha in custodia le cose l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile perché certi eventi non accadano sicuramente potrebbero nascere anche dei procedimenti di tipo erariale di danno erariale a carico di quegli amministratori che si dovesse accertare non abbiano fatto tutto quanto in loro nella loro possibilità per evitare che le amministrazioni dovessero sborsare dei soldi per risarcire i danni riportati ai danneggiati sicuramente anche in sede penale potrebbero sorgere dei procedimenti in danno di amministratori che abbiano consentito di realizzare le opere senza controllare la loro buona qualità senza abbiano messo di verificare lo stato di collaudare correttamente le stesse o piuttosto dovessero risultare ipoteticamente collusi con chi ha realizzato queste opere con materiali scadenti o senza un'adeguata verifica dello stato dei luoghi e da verificare è tutto da verificare naturalmente è un discorso ipotetico sento abbiamo visto tutti noi in questi ultimi giorni le immagini prevenienti dagli stati uniti ovvero l'assedio al campedoglio da parte di alcuni sostenitori di donald trump io le chiedo da un punto di vista giuridico come si inquadra quanto accaduto a washington sì ovviamente facciamo un paragone con la legislazione italiana perché non è che conosciamo nel dettaglio la legislazione americana però possiamo dire con un certo margine di attendibilità che siccome è il patrimonio comune di tutte le democrazie è condiviso ormai condiviso da tutti sicuramente quello che stiamo per dire è probabilmente ciò che corrisponde alla realtà dei fatti in italia come in america l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è consentito a chi che sia così come è vietato costringere qualcuno a fare o sopportare qualcosa che non voglia fare e ciò tanto che lo si faccia con violenza tanto che lo si faccia con minaccia se si ritiene che taluni abbia per esempio un pubblico dipendente non stia facendo quello che si ritiene doveroso che egli debba fare non si può costringere a farlo con violenza o con minaccia si trova a ricorrere all'autorità che lo stato ha designato per risolvere questo tipo di problematiche di solito questo compito in tutte le democrazie avanzate è affidato ai giudici di ogni ordine grado così in america il presunto torto subito per effetto delle elezioni dovrà essere fatto valere presso le autorità che lo stato americano ha preposto per controllare l'attendibilità e l'esattezza delle risultati elettorali e le forme di dissenso che si possano avere sul punto non possono mai sfociare nell'incitazione a manifestare senza autorizzazioni o a prendere d'assalto sedi istituzionali o addirittura depredarla. Mi permetta di entrare nel merito se l'assalto fosse se l'assalto a congresso insomma fosse avvenuto in Italia quali sarebbero state le conseguenze? Beh si tratterebbe sicuramente di moti del tutto illegali come tale perseguibile compiene forse anche molto severe tanto a carico dei partecipanti tanto a carico degli stigatori ammesso che sia protezzabile detta fatta specie in Italia nell'ottica della folla in tumulto ricordo come ogni forma di manifestazione di piazza debba essere sempre previamente autorizzata peraltro indicandosi preventivamente i luoghi e le modalità di riunione. Ricordo ancora come mai possa essere autorizzata una manifestazione che comprenda l'occupazione arbitraria di edifici pubblici piuttosto del saccaggiamento o altre forme di manifestazione di pensiero così incisive come quelle che abbiamo visto in televisione. Il danneggiamento di cose pubbliche tra l'altro o esposte al pubblico costituisce reato e la violenza fisica o morale esercitata contro pubblici dipendenti è altrettanto punito severamente. Dal punto di vista poi del presidente in questo caso degli Stati Uniti che è stato in qualche modo criticato in Italia non abbiamo una corrispondenza di funzioni e non abbiamo un presidente che ha analoghi poteri però qualora volessimo bizzarramente fare un paragone col nostro presidente della Repubblica in Italia è previsto una procedura di impeachment a carico del presidente della Repubblica che dovesse macchiarsi dei reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione quindi ipoteticamente potrebbe ipotizzarsi una cosa del genere ammesso che avvenisse ma non ce lo auguriamo mai anche in Italia così come a carico del presidente del consiglio dei ministri volendo fare sempre un parallelismo piuttosto bizzarro è previsto una procedura che prevede addirittura un processo davanti al tribunale eh ordinario davanti al cosiddetto tribunale dei ministri previa autorizzazione del Parlamento nel caso in cui il presidente del consiglio dei ministri si macchiasse di reati così infamanti. Tutto chiaro senta passiamo adesso alle vicende di casa nostra ovvero gli incidenti fasulli una piaga molto difficile da istirpare soprattutto nel nostro territorio quali possono essere i rimedi in merito? Sì ve ne parlo di un di un caso che mi è capitato di recente di trattare perché mi ha colpito molto è una piaga piuttosto diffusa le statistiche giudiziarie sono ancora costellate di tanti episodi che diciamo in qualche modo lasciano l'amaro in bocca specialmente nelle nostre zone e anche se devo dire il fenomeno è un po' in via di attenuazione. Di recente mi è capitato di trovarmi davanti ad un caso in cui una vettura una potente vettura Porsche era stata coinvolta in un incidente tra l'altro cittadino quindi come tale di solito di modesta entità ma nel quale si lamentavano dei danni per oltre 35 mila euro per effetto di un tamponamento. La compagnia assicurativa attraverso le proprie indagini ha dimostrato che questa vettura era stata coinvolta due mesi prima di questo incidente cittadino in un altro incidente in Toscana nel quale aveva riportato dei danni molto simili a quelli adesso denunziati in sede giudiziaria e singolarmente dopo due mesi dopo si lamentava un danno analogo. Poi la compagnia assicurativa ha provato anche che i testimoni che avevano deposto in questo processo erano come dire dei professionisti della testimonianza perché negli ultimi anni avevano testimoniato in vari incidenti stradali il che è abbastanza singolare perché a noi tutti non è che capita spesso di essere testimoni di incidenti stradali. Per l'effetto e per l'effetto di alcune incongruenze che abbiamo poi noi giudici del collegio della nona civile riscontrato nel caso trattato abbiamo rigettato la domanda di questo concessionario che lamentava questi danni così gravi e abbiamo e noi possiamo poi trarne la conseguenza come cittadini piuttosto che come giudici che se le difese sono accurate se avvalendosi di questi strumenti nuovi la consultazione di queste banche dati si riesce in qualche modo a difendere gli interessi di parte abbastanza bene evitiamo anche che i prezzi dei costi delle polizie assicurative possono levitare troppo e gli stessi cittadini onesti debbano pagarne poi le conseguenze. Senta in pilole in conclusione il costo della difesa nei processi civili la possibilità di recupero integrale di quelli sostenuti dal socconvento è una questione mai risolta. Sì mai risolta perché effettivamente i costi adesso le spese legali sono piuttosto remunerative per i difensori però spesso il cittadino si trova a sostenere delle spese molto elevate anche per il carico delle spese legali perché gli avvocati giustamente devono essere pagati e spesso non hanno la possibilità di recuperare le spese dal socconvento. Ci sono diverse iniziative anche in campo legislativo per evitare che il cittadino possa trovarsi detto in pilale con il cerino in mano nel senso di sopportare tante spese e poi non rimanere compensato. Grazie a De Eugenio Forgillo, presidente vicario della Corte di Appelle di Napoli, presidente dell'Unione di Sezioni Civili della Corte per essere stato con noi pubblicità.